Dal secondo libro dei mercatoi, in quei giorni, un tale ideato, uno degli istituti più stimati, un uomo già avanti negli anni e molto dignitoso nell'aspetto della persona, veniva costretto ad aprire la bocca e a inguillare carne sull'ina. Ma egli, preferendo una morte gloriosa a una vita ignominiosa, si incamminò volontariamente al soffizio, sputando il boccone e comportandosi come conviene a coloro che sono pronti ad allontanarsi da quanto non è l'ecito costale per attaccamento alla vita. Quelli che erano incaricati dell'illecito vampieto sacrificale, in nome della familiarità di Antica Data, che avevano con l'ospuolo, lo tiravano a disparte e lo pregavano di prendere le carne di cui era lecito a cibarsi, preparata da lui stesso, e fingere di mangiare le carni sacrificate in coste della terra, perché, agendo a questo modo, sarebbe sfuggito alla morte e avrebbe trovato l'umanità in nome dell'antica amicizia che aveva con loro. Ma egli, facendo un nobile ragionamento, degno della solità e del prestigio della vecchiaia, della raggiunta minerata a canizie e della condotta irreprensibile tenuta fin da panciullo, ma specialmente delle sante leggi stabilite da Dio, rispose subito dicendo che lo mandassero pure alla morte. Poiché egli diceva, non è affatto degno nella nostra età fingere, con il pericolo di molti giovani, pensavano che a novant'anni Eleazaro sia passato alle usanze straniere. A loro volta, per curva della mia funzione, per una piccola e bellissima esistenza, si perdano per causa mia, e io procuri così disonore e rabbia alla mia amiciziaia. Infatti, anche se ora mi soffraesse al prestigio degli uomini, non potrei sfuggire, né da vivo, né da morto, alle mani dell'Onipotente. Perciò, abbandonando ora da forte questa vita, mi mostrerò degno della mia età e lascerò ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e nobilmente, per le sante e venerante leggi. Dette queste parole, si avviò prontamente al suffizio. Quelli che ve lo trascinavano cambiarono la benevolenza di poco prima in avversioni, ritenendo che le parole da lui pronunciate fossero una pazzia. Mentre stava per morire sotto i colpi, disse tra i geni, «Il Signore, che possiede una santa scienza, sa bene che il terzo sfuggire la morte, soffrono nel corpo atroce e dolori sotto i flagelli, ma nell'arma sopporto valentieri tutto questo per il timore di lui». In tal modo, io mi morì, lasciando la sua morte come esempio di nobiltà e ricordo di virtù, non solo ai giovani, ma anche alla grande maggioranza della nazione. Parola di Dio. Grazie a Dio. Il Signore mi sostiene. Il Signore mi sostiene. Signore, quanti sono miei abbrassati? Molti contro di me mi sorgono, molti dicono della mia vita, per lui non c'è salvezza in Dio. Il Signore mi sostiene. Ma tu sei il mio studio, Signore, sei la mia gloria e tieni alta la mia testa. A gran voce grido al Signore ed Egli mi risponde dalla sua santa montagna. Il Signore mi sostiene. Io mi corico, mi addormento e mi risveglio. Il Signore mi sostiene. Non temo la folla numerosa che intorno a me si è accampata. Il Signore mi sostiene. Dio ha amato noi e ha mandato il suo figlio, come vittima di ispezione per i nostri peccati. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. E con il nostro figlio. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando un uomo, il nome Zaccheo, capo dei pubblicani Enrico, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Coppa. Alleluia. Giorno di Unknown. Corre. Alleluia. E danno. Alleluia. Il Signore. Corre. pieno di gioco. Vedendo ciò, tutti morboravano e ingrati in casa di un peccatore. Mazzaccheo, alzatosi, disse al Signore, Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedono i poveri e se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose, Oggi, per questa casa è venuta la salvezza, perché anche lui è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. E l'amore a te, professione. L'annunzio cristiano, l'annunzio che il cuore della fede data dagli Apostoli è nel mistero grande dell'incarnazione. È nel mistero in cui sono stati accompagnati sempre da questa domanda ogni uomo che si lascia abitare dall'evento della salvezza. Pur Deo so perché Dio si è fatto uomo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. È dentro questo mistero di grazia. È dentro questo mistero di luce. È dentro questo mistero che la nostra vita non solo incontra il Signore, ma vive dentro quell'incontro di misericordia. E Luca ci racconta della vita di Zaccheo, come ciascuno di noi, come ciascuno di noi, come ci insegna Sant'Ignascio di Loyola, per mettere il suo nome. Ciascuno di noi, come Zaccheo, celebra dentro la propria vita ed è chiamato a celebrare dentro la propria vita un incontro più sacro. Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco. Non c'è niente che possa dire che era né un perfetto né un sacchetto. Non c'è niente che possa dire che sia abitato da una certezza. Capo dei pubblicani e ricco. Potrà un picco e in grande regno dei cieli. Pubblicani. Già questo. Non solo pubblicani, ma capo dei pubblicani. Un peccatore ingannito, ha dentro di sé un desiderio. Ha dentro di sé un desiderio. Un desiderio umano. Un desiderio dell'umano che è quello di cercare di vedere chi era Gesù. Ma la folla è se stessa. Non non gli permettono di vederlo. Perché? Perché è Gesù che alza lo sguardo. L'incontro della nostra vita, della nostra vita abitata da quel mistero che chiede e implora salvezza salvezza al Signore. È lui che c'è la voca. È lui che alzando lo sguardo dice al Zaccheo. Ed è una chiamata vocazionale. È una chiamata che ci rimanda immediatamente al cantico dei cantici. È un linguaggio mistico. Potremmo dire questo del Vangelo di Luca. Zaccheo, scendi subito. Perché oggi, l'oggi di Dio, l'oggi della salvezza, l'oggi della misericordia, l'oggi di quell'amore viscerale di Dio nei confronti di ogni uomo, oggi devo fermarmi a casa tua. Devo andare nella tua vita. Devo rimanere nella tua casa. Devo fermarmi. C'è una stabilità. La stabilità di Dio dentro Cristo Gesù, dentro il cuore dell'uomo. scesi in fretta. Ero a corse pieno di ciò. Se c'è uno sguardo che cerca, c'è anche uno sguardo che si incontra. Gesù incontra gli occhi di Zaccheo. Gesù incontra la vita di ogni uomo che si lascia male da lui. Ma c'è uno sguardo di amore. C'è uno sguardo di teverenza. C'è uno sguardo che ha come frutto la gioia. Lo accorse pieno di gioia. Vedendo ciò, e con altro sguardo, vedendo ciò, tutti mormoravano. Tutti mormoravano. E rilato in casa di un peccatore. La mormorazione è non riconoscere la salvezza. La mormorazione è non riconoscere l'essere abitati dalla carità di Dio. La mormorazione. Quella mormorazione del popolo di Israele che dell'annunzio dell'Esodo morborano. La mormorazione è entrata in casa di un peccatore. Ma questo è il nostro peccato. Ripeto, la nostra umanità autenticamente umana. qual è la condensione di Zaccheo dopo l'incontro con il Signore? Che è capace di amare? Che è capace di amare? Mentre prima era chiuso in se stesso. Mentre prima era dentro un nuovo referenzialità. Mentre prima era restituisco quattro volte tanto. Il povero non è più povero da lui. Diventa fratello. E ciò che aveva ricordato diventa dono di grazia, diventa condivisione, diventa la capacità di vivere l'umano dentro la sua pienezza. Gesù gli risposta oggi, per questa casa, è venuta la salvezza. E allora chiediamo al Signore che l'annunzio cristiano non è altro che un annunzio di salvezza. È un annunzio di salvezza. Pensate, la grande intubizione di questa donna abitata dall'evento della salvezza dentro la propria vita che ha la lunga che dice che l'economia deve essere un'economia di condivisione, deve essere un'economia di comunione, deve essere un'economia che è capace di diventare il segno dell'amore che si dona. Ieri, oggi, se Cristo è il rompe, si salvano. Dentro una esperienza che è quella dell'annunzio caritimatico della vita di Cristo dentro la storia, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Questa è la catechesi, questa è l'evangelizzazione. Questa è ciò che i santi, ieri, oggi e sempre, hanno in Cristo compito, hanno cercato, hanno salvato ciò che era perduto. Questo hanno fatto i santi. E allora chiediamo al Signore di donarci sempre, di entrare e di contemplare il mistero dell'incarnazione perché il mistero è di salvezza. Grazie. 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 Grazie.